Musiche nel cinema, prima iniziativa targata Riabitare Morano all'auditorio Massimo Troisi. Questo meraviglioso spettacolo di stasera offerto alla nostra comunità è offerto perché rientra nella misura Riabitare Morano, che è un progetto finanziato dal PNRR per 1.700.000 euro, a cui vanno aggiunti quasi 800.000 euro per le attività private. Segno tangibile di impegno, direzione e passione messa a servizio della nostra comunità, perché è vero che non si possono creare posti di lavoro, ma è vero che si possono creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere di riabitare Morano. Lo spettacolo della locale orchestra di Fiati diretta dal maestro Massimo Celiberto ha spaziato tra le più belle melodie di Williams, Zimmer, Bacalov, Piovani, Morricone, Jones, Rota, le stesse che hanno contribuito al successo delle pellicole. C'è il cinema d'avventura, c'è il classico western che insomma appassiona tutti, moltissime sorprese e poi ci sono premi Oscar italiani che sono l'orgoglio della nostra tradizione cinematografica come La vita è bella. I brani seguiti in maniera fedelissima dai 52 componenti della storica formazione moranese, secondo un cliché ben collaudato, hanno consentito allo spettatore di provare le medesime emozioni che si vivono guardando le scene dei film sul grande schermo.